... Non te lo dici ma lo pensi. Vediamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo primo incontro fatto dal comitato per coinvolgere la cittadinanza e tutti i suoi comprensori. Ci sarà un sit-in allargato a tutti i sindaci che verranno con la fascia dei 24 comuni che ricadono nella circoscrizione del Tribunale di Lamezia Terra. Invitiamo tutta la cittadinanza ad essere qui presente in massa perché è una battaglia di tutti, è una battaglia civile che vogliamo portare avanti nell'interesse di Lamezia. E tutto il comprensorio. Tutto il comprensorio che ormai è stanco di subire solo setto azione. Riflettevamo con alcuni amici prima che in altri territori si battono per avere cose nuove, qui ci dobbiamo battere per avere quello che avevamo. Quindi è una battaglia tenace che dobbiamo portare tutto avanti. Quindi stasera alle 21? Stasera alle 20 e 30. 20 e 30, va bene. Grazie.